Ultima sgampatura del 2017, dopo la raffigurazione dell'albero di Natale formato da tutti i ragazzi della scuola calcio, settore giovanile, adesso per riscaldarsi i ragazzi si faranno una partitella in famiglia. E' il tempo suo, si riscaldano con una partitella in famiglia, pure qua si stanno riscaldando, mister Gabriele non vuole tempi morti, i ragazzini si devono muovere, pure qua si stanno, qua ci sono i piccolini, concludono questo 2017 con una partitella in famiglia, anche qua hanno cominciato la partitella in famiglia, si riscaldano, sta freschetto, stanno già dalle tre qualcosa, qua i ragazzi alcuni sono venuti in pantaloncini e stanno ancora in pantaloncini, ma sono temperati tutte le temperature, comunque sempre freschetto, stare fermi si sente il gelo. da quest'altro lato vuole un altro gruppo di ragazzi, tutti in movimento, proprio per riscaldarsi, pure là in punto, c'è anche il match col suo pallone orange, pure qua si riscaldano i ragazzini, e anche il mister sta facendo fare una partitella, se no si raffreddano i ragazzi, ormai nei movimenti si riscaldano, l'ultima partitella di questo 2017. Qua in fondo c'è un altro gruppo di ragazzi, tutti mister presenti. Signore e signori, arrivederci al 2018, ripresa del campionato, dei vari campionati, il 14 e il 15 gennaio 2018.